fortnite frattura è qui ricordate le parole che sto per dire ragazzi oggi accendiamo il pc o la console e scegliamo a quale gioco giocare se come pensiamo con il capitolo 4 verrà implementata la creativa 2.0 allora da domani apriremo fortnite e sceglieremo a quale gioco giocare in che senso beh se la creativa 2.0 avrà l'impatto che hanno avuto le mod su minecraft allora sarà possibile creare diversi giochi all'interno di fortnite stesso potrebbe essere creata una versione survival su fortnite stile minecraft ad esempio dove dobbiamo esplorare e sopravvivere costruirci un riparo potremo avere armi nuove inventate dagli utenti modifiche upgrade delle armi già esistenti nuovi pezzi di costruzione oltre a quelli che già conosciamo i nuovi tipi di edit che al momento non si possono fare non voglio spendere troppe parole su questa creativa perché anche quando verrà implementata l'evoluzione sarà lenta perché le cose dovranno essere create dalla community mano a mano ma questo penso che renda il tutto ancora più gustabile e divertente ma in ogni caso sappiate che questa cosa creerà infinite possibilità e darà agli utenti la possibilità di reinterpretare fortnite come meglio credono questa sera alle 22 ci sarà l'evento di fine capitolo 3 e inizio capitolo 4 io sarò in live per vedere l'evento con voi proprio su questo canale di youtube quindi se ti fa piacere lascia un like e attiva la campanellina in modo che verrai notificato questa sera quando andrò live potrai venire a vedere l'evento con me cosa possiamo aspettarci da questo evento pare si tratti di un evento molto lungo 40 minuti dove probabilmente avremo l'occasione di vedere la mappa fratturarsi sotto di noi mentre ci troviamo all'interno dello spazio e successivamente riforgarsi riunirsi in quella che sarà la mappa del capitolo 4 probabilmente il protagonista dell'evento sarà l'araldo e sembra da quello che dice epic game che potremmo giocare anche durante il tempo di downtime cosa significa avete presente quelle 12 24 48 ore che fortnite lascia passare tra la fine di un capitolo e l'inizio di quello successivo in cui non è possibile giocare ma abbiamo davanti solo una schermata ecco in questo caso sembra che una parte del gioco una versione creata apposta per questo evento sarà disponibile e giocabile durante tutto il tempo di downtime e da quello che ha detto epic sembra che in questo periodo potremo giocare esplorare e scegliere come riforgiare la nuova mappa del capitolo 4 in quello che epic game ha definito un social event un evento sociale sembra che questo evento possa essere veramente fantastico forse il migliore mai creato su fortnite lo scopriremo questa sera anche perché non voglio fare troppe speculazioni su quello che effettivamente potrà succedere ma posso farle invece le speculazioni su quello che dobbiamo aspettarci o possiamo aspettarci dal capitolo 4 allora come ho già detto all'inizio del video la creativa 2.0 è da tanto che se ne parla e verrà data la possibilità alla community di creare la propria versione di fortnite non solo come si può fare adesso in creativa ma anche andando a modificare i file del gioco quindi in ogni modo che una persona si possa immaginare modificare i movimenti creare nuove meccaniche creare nuove armi creare nuove modalità di gioco creare nuove mappe qualunque cosa e mi auguro caldamente che il nuovo capitolo 4 sia anche il lancio di questa creativa 2.0 secondo nuova mappa come in tutti i capitoli avremo una mappa nuova ma sembra che questa volta ci sarà la sostanziale differenza che saranno gli utenti in questo evento sociale a scegliere come forgiare la nuova mappa terzo e questo è un po un mio capriccio un nuovo sistema competitivo per chi ha giocato ad altri giochi competitivi sa quanto il sistema dell'arena abbia alcuni difetti e lacune e non sia effettivamente sfidante per il giocatore questo comporta che molti giocatori anche quelli bravi che potrebbero grindare giocare ranked tutte le volte che si trovano davanti alla consola davanti al computer spesso scelgono di fare altre cose perché una volta entrati nella lega campione effettivamente non c'è tanto da fare creare un sistema che invece sfidi di più il giocatore e magari con delle ricompense sposterebbe tutti i giocatori competitivi sulle modalità rancate e creerebbe finalmente un ambiente più tranquillo all'interno delle partite pubbliche che adesso spesso sono anche più difficili dell'arena basta ragazzi non voglio parlare troppo in questo video perché lo faremo questa sera alle 21 e 30 su questo canale guardando l'evento insieme faremo speculazioni e reagiremo insieme all'evento e se siamo più avanti nel tempo e l'evento c'è già stato probabilmente qua sopra troverai il link al video completo dell'evento e se non c'è ancora stato non c'è ancora il video completo troverai comunque un video utile per migliorare su fornite probabilmente dacci un'occhiata e noi ci vediamo stasera ciao ragazzi bella